E' un'iniziativa molto bella, perché esprime sentimenti di solidarietà da parte di tutti gli italiani, perché 147 librerie in Italia che hanno raccolto ben 37.000 libri è una cosa incredibile, alcune di queste donati addirittura con delle dediche personali, e quindi devo dire che è proprio un sentimento di partecipazione al dramma degli aquilani molto forte che c'è stato. È raccolto nel periodo di agosto e nel giro di un mese hanno fatto questa raccolta straordinaria. Poi devo dire che le nostre biblioteche scolastiche diventeranno le biblioteche scolastiche più fornite, cioè le scuole elementari e le scuole medie avranno le biblioteche più fornite in Italia. Anche questo credo che sia una bella cosa, perché poi vivere è bellissimo già di per se stesso, anche con tutte le difficoltà che uno può incontrare, alla fine la vita è bella, ma leggere significa quasi duplicare o triplicare le vite che uno vive, e quindi aumentare il piacere di questa nostra esperienza sulla terra. Grazie.